Non solo la risposta ad un'interpellanza della minoranza, ma anche l'approvazione del progetto preliminare. In una sola seduta di consiglio, il sindaco Pietro Visini e la maggioranza consigliare di Piario effettuano un doppio passaggio in merito agli interventi per i nuovi box interrati in paese e la riqualificazione di Via Speranza e Piazza Roma. Sindaco, ricordiamo in breve i contenuti di questo progetto. Questo progetto è un progetto che si svolge su due fronti. Il primo è il lotto A e si tratta di la sistemazione del parcheggio alla fine dell'ospedale e la costruzione di alcune autorimesse che verranno poi cedute ai privati. Il lotto B invece è la riqualificazione di Via Monsignor Luigi Speranza, anche lì con la costruzione di alcune autorimesse e la costruzione del marciapiedi lungo tutta la Via Monsignor Luigi Speranza che è altamente pericolosa per i passanti. Opere previste da un accordo con un'impresa. Opere previste da un appalto che l'impresa ha accettato e oggi, seppur con lentezza, sta andando avanti. E ci auspichiamo tutti che possa essere portato alla fine. Nell'interpellanza discussa ad inizio seduta, la minoranza chiedeva chiarimenti sulla procedura, definita anomala. In aula il capogruppo Fulvio Pelizzari ha detto che in fase di gara si erano sancite scadenze precise, che poi però sono state disattese o prorogate. Sentiamo la risposta del sindaco. Sì, ci sono stati dei ritardi, sia nella progettazione, sia nel ricevere la documentazione prima della firma del contratto, sia nell'attornamento dei permessi che l'impresa era tenuta a fare. Tutto questo è stato tollerato non tanto perché eravamo di animo buono, ma proprio perché non c'era un'altra impresa concorrente e di conseguenza per i beni del paese si sono accettati anche questi ritardi. La minoranza fa il suo mestiere e di conseguenza si attacca dove può. Certamente da parte nostra c'è tutta la buona volontà di portare avanti questo progetto. Il progetto ha ottenuto il sì della sola maggioranza, voto contrario da parte dei consiglieri di minoranza. Sentiamo perché. Voto contro il progetto, non voto contro il progetto. Io ho votato contro la tipologia, cioè il ritardo della presentazione di questo progetto. Secondo il mio punto di vista un progetto deve essere l'inizio di un appalto di un contratto, non può essere una ruota di scorta che viene dopo. Allora, se ci fosse stato questo progetto all'inizio, quando è stato fatto l'appalto, noi avremmo votato a favore. Siccome questo progetto è stato presentato solo oggi, con tutti i ritardi già che abbiamo nella costruzione delle autorimesse e non parliamo poi di quello che sarà Piazza Roma, è ovvio, è in coscienza, noi non possiamo dare il voto favorevole, ma siamo obbligati a darlo contrario. Grazie.